Verbania è la mostra della camellia invernale online sul New York Times. È uscito in home page sul sito del prestigioso quotidiano americano che conta 19 milioni di follower su Facebook, un lungo articolo su Verbania, la mostra della camellia invernale, la storia della camellia in Italia. Scritto dalla loro reporter italiana Elisa Povoledo, con dovizia di particolari, belle foto e un serio approfondimento, si traccia il lavoro svolto in questi anni dall'amministrazione comunale, dalle associazioni coinvolte e dallo sforzo di tanti appassionati locali e non della camellia. Si racconta un lungolago che cerca di attirare gli amanti dei fiori con il suo clima mite, i giardini spettacolari e la natura selvaggia. L'articolo che oltre a quelle del sindaco di Verbania Marchionini e dei referenti botanici locali, cità anche le parole di alcuni esperti nazionali e internazionali, riferisce di un clima ideale per la crescita di questo fiore, che è parte integrante del verde urbano, un particolare che sorprende tanti stranieri. Nei loro paesi le camellie sono relegate nei giardini botanici e viste come una rarità.